Gianni Colacione per LibriTV, siamo in Torre Argentina e incontriamo Massimiliano Iervolino. Lo intervistiamo in merito ad una sua proposta che abbiamo potuto ascoltare da Radio Radicale perché questa volta colpevolmente LibriTV non era presente, è l'ultimo comitato che è il comitato che è subito antecedente al prossimo congresso di Radicali Italiani. Una proposta interessante che prova a dare in qualche modo una risposta, una soluzione ad un certo fermento interno alla Radicale. Io non voglio anticiparvi oltre e do subito la parola a Massimiliano che ce la illustra e ci dice un pochino anche le sue aspettative, i suoi pronostici in materia. Innanzitutto grazie per l'intervista. Prima di parlare della proposta che ho fatto al Comitato Nazionale mi urge dire del perché di questa proposta. Innanzitutto per tre questioni. La prima è perché Radicali Italiani dopo tanti anni di vita continua a perdere iscritti. Quest'anno arriveremo al congresso a malapena con mille iscritti e questo è un dato di fatto che comunque va tenuto in considerazione. La seconda questione è che durante il referendum e per i referendum che sono stati presentati, parlo dei 12 quesiti, la militanza radicale ha potuto raccogliere solo e ha saputo raccogliere solo 70.000 firme, un numero di sottoscrizioni molto minore rispetto a quello che eravamo abituati a raccogliere. Non voglio cadere in facili demagogie, però proprio per questo dico che quelle 70.000 firme comunque sono frutto di un lavoro incessante di tanti compagni e militanti dell'area radicale a cui sicuramente va resa gratitudine per tutto quello che hanno fatto. Però il dato è quello, se noi confrontiamo quello che è stato fatto durante il penultimo referendum e quindi parlo del 2004-2005 per la fecondazione assistita e lo mettiamo proprio a confronto con il numero delle firme di oggi, si vede che c'è uno scarto di diverse centinaia di migliaia di firme. La terza considerazione è quella che ormai non solo non partecipano più alle riunioni di radicali italiani, ma non sono iscritti tanti radicali storici che frequentano anche Torre Argentina, che hanno frequentato Torre Argentina e che non vedono più l'opportunità politica di iscriversi. Queste tre questioni che per me sono questioni fondamentali mi hanno fatto pensare a una proposta che è la seguente che ho lanciato durante il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, che è quella di entrare in congresso con una mozione di scioglimento dello stesso soggetto politico di cui stiamo parlando. Questo perché? Perché io non vorrei che il prossimo congresso si concentrasse solo sulla questione delle cariche e solo su altre beghe interne che pure ci sono. Io credo che invece il prossimo congresso debba essere il congresso della vita o della morte di radicali italiani, proprio per i motivi che ho detto prima, perché così a mio avviso non si può continuare ad andare avanti e quindi di responsabilizzare tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti, che come ho precisato prima sono parecchi già a partire dall'area radicale, per aprire un dibattito alla luce del sole su se serve o meno, se continua a servire o meno il soggetto politico radicali italiani. Questa è la mia proposta, considero questa proposta anche rispetto a tutti gli altri interventi che ci sono stati proprio su questo punto nel comitato di radicali italiani, una proposta che poteva aprire un nuovo scenario di congresso. Io come ho detto prima non vorrei che il prossimo congresso si risolvesse con battaglie interne, questo no, c'è il pericolo di questo. Dobbiamo tornare tutti insieme a dialogare, come facevamo un po' di anni fa, cosa che oggi non viene fatta. Bene, allora chiara la proposta, io volevo chiederti, allora c'è stata una mozione del comitato nazionale che parzialmente ha accolto questa, soprattutto nelle ultime parole, c'è un interrogativo con quale soggetto puoi affrontare eccetera eccetera. Quello che volevo chiederti è che, allora, mettiamo che questa, in qualche modo questa proposta spontaneamente insomma venga accolta e quindi insomma il segretario la proponga. Ci sarebbe la possibilità quindi di vedere all'inizio del congresso una interpellanza, che vengono interpellati tutti quanti i congressisti che poi peraltro il primo giorno sono sempre pochi, sulla vita di questa associazione. Non è proprio così. La mia proposta non era proprio di votare all'inizio del congresso la vita o la morte di radicali italiani. La mia proposta era di mettere al centro la vita politica di radicali italiani per farne un dibattito del congresso e solo alla fine decidere. Nessuno, forse mi sono spiegato male anche durante il comitato, nessuno ha mai pensato di far votare qualcosa all'inizio di un congresso, anche perché sarebbe controproducente. Senza un dibattito e senza nulla una cosa del genere non starebbe né in cielo né in terra. La mia proposta era invece di fare una mozione al Comitato Nazionale di Radicali Italiani, dove praticamente si invitava i cittadini, gli iscritti alla partecipazione al congresso di radicali italiani, proprio per dibattere e alla fine decidere se radicali italiani doveva continuare per la propria strada oppure doveva sciogliersi. E' questo il senso della proposta. Io non ho mai pensato di far votare all'inizio la vita o la morte di radicali italiani. Chiedo scusa, avevo capito male. Ok, sì, adesso è tutto abbastanza più ragionevole. E quindi, insomma, questa è la tua idea. Tu pensi personalmente, a parte una proposta, insomma, come militante, che sia... a parte che premetto volevo dire che io penso un po' da quello che ho sentito in giro, che si percepisce, che si respira, che comunque questo dibattito farà parte un po' del congresso e sarà centrale. Ma comunque, tu ti auspichi una chiusura oppure un cambiamento, un'evoluzione, un qualcosa di diverso? Poi, ecco, poi vediamo un pochino, poi ti faccio un'altra domanda che è un pochino sui criteri su cui valutare radicali italiani. È importante quello che dici perché tu quando affermi che comunque il dibattito ci sarà, era proprio quella la mia proposta. Cioè, invece di farlo nascere dal nulla, cercare di metterlo al centro anche per tentare di governarlo e tentare di trovare, come ogni classe dirigente dovrebbe fare, una via d'uscita. È proprio quella la politica, no? Ascoltare e poi cercare di trovare lo strumento migliore per poter andare avanti. Quindi questa era la mia proposta. Poi nel prossimo congresso vedremo che cosa accade. Io non sono affezionato a degli strumenti senza se e senza ma. Può darsi pure che da un, come ha detto Emma Bonito, da uno strumento come Radicali Italiani possa nascere uno strumento ancora migliore. Io quello che dico è che Radicali è stato, a mio avviso, un po' isolato rispetto a altre parti dell'area radicale. Le colpe di chi sono non entro nel merito. Però dico solo che prima di un certo periodo c'era molto più dialogo tra i vari soggetti, c'erano molte più riunioni dove decidere che cosa fare. Oggi questo dialogo non c'è più. E stiamo assistendo, a mio avviso, a un dialogo tra soldi e stiamo assistendo, a mio avviso, sempre a una battaglia che ricorda guerre tra curve. Questo non va bene anche perché noi sappiamo che i problemi esterni sono innumerevoli e veniamo da stagioni elettorali non felici, politiche molto più felici. Non dimentichiamo che comunque abbiamo portato in un'azione oltre 500.000 firme su alcuni referendum e che il messaggio alle Camere, grazie a Marco Panella, del Presidente della Repubblica, comunque c'è stato. Ok, quindi accennavi a questo dibattito che magari all'interno c'è poco, c'è stato una sorta di isolamento e così via. Allora, io ti volevo chiedere, siccome appunto abbiamo parlato fino adesso del soggetto che non si può neanche chiamare politico, perché i radicali italiani in realtà è un'associazione, statuteriamente mi sembra questo. Allora, quello che ti volevo chiedere, è più secondo te un isolamento determinato, cioè dell'associazione o una presa di distanza dell'attuale segreteria, della dirigenza insomma, di radicali italiani? In questo secondo caso magari superabile semplicemente con un cambio di, con un avvicendamento che nei congressi è abbastanza normale che capiti? Io credo che anche se ci fosse un avvicendamento nelle cariche politiche attuali di radicali italiani, comunque, qualora non ci fosse un dibattito serio e franco, dei problemi comunque continuerebbero a esserci. Dei problemi, forse dal mio punto di vista, dello strumento da utilizzare per raggiungere alcuni obiettivi, ma anche su questioni che ci portiamo indietro da tanti anni, come le questioni economiche. Noi siamo in un momento di estrema difficoltà, non parlo solo di radicali italiani, ma di tutta l'area radicale per quanto riguarda le risorse economiche, che sono quelle che sono, a cui va data sicuramente una risposta e su questo dovremmo ragionare, perché forse per qualcuno è brutto dirlo, ma senza soldi è difficile anche programmare in cardinale delle azioni politiche. Quindi questo dovrebbe, a mio avviso, essere uno dei punti centrali del prossimo congresso. Poi certo, la questione economica è una questione che va di pari passo all'antidemocrazia italiana, ai pochi spazi che abbiamo in tv, anzi ai quasi nulli spazi che abbiamo in tv. Ci sono tante cose su cui dovremmo continuare a discutere, purtroppo abbiamo smesso di discutere. Io mi ricordo, faccio un esempio, che quando nel salone di Torre Argentina si preparò la peste italiana, il famoso libro giallo, c'era il salone pieno di persone che parlavano proprio di come scrivere, di che scrivere su questo nostro documento. Quello spirito unitario, che poi ci portò al buon risultato dell'europeo del 2009, se non mi ricordo male, questo spirito unitario si è perso. Questo è un grave problema. È un grave problema, sì. Quello che volevo chiederti è anche, perché appunto l'avevo accennato prima, quindi adesso c'è il congresso di radicali italiani, però qui in qualche modo mi parlano un po' anche di problemi che riguardano l'area. Quindi è, diciamo, ragionevole pensare che risolto come si risolverà il problema, tra virgolette radicali italiani, si risolverà il problema dell'area? E poi l'altra domanda è, se appunto bisogna prendere una posizione netta, che appunto sarà sintetizzata in un voto sulla continuità o la trasformazione di radicali italiani, si dovrà valutare su base di qualche criterio, no? Tu parlavi prima degli iscritti, parlavi, ecco, però questo criterio è un criterio che varrà solo per radicali italiani? Oppure, perché poi, insomma, i militanti poi alla fine siamo tutti lì, insomma, sarà applicabile anche alla valutazione ed eventuali poi decisioni in merito delle altre astri, diciamo, della Galassia? Allora, io su questo sono molto d'accordo con l'ultimo intervento di Gianfranco Spadaccia alla direzione di radicali italiani, quando lui dice che il problema non è solo radicali italiani e quindi il collo di bottiglia non è radicali italiani, ma c'è un problema di tutta l'area. Per quanto riguarda anche la mia proposta, è normale che noi andiamo a un congresso di radicali italiani e quindi puoi proporre qualcosa per il movimento che si riunisce a congresso. Dico che uno dei problemi che ci portiamo indietro da qualche anno, anzi, da parecchi anni, è la mancanza del Senato del Partito Radicale Trasnazionale, il luogo che dovrebbe servire proprio a deliberare varie questioni che sono fondamentali per tutta l'area. A questo Senato si è sempre fatto, si è sempre sostituito comunque con delle riunioni in cui si discuteva. Io mi ricordo che quando ci fu, prima ho fatto l'esempio del libro giallo e della peste italiana, ora faccio un altro esempio che è quello del 2008, quando ci fu la questione delle ospitalità nelle liste del Partito Democratico, lì ci furono delle riunioni che durarono giorni e giorni con tutti i dirigenti dell'area radicale per decidere se accettare o non accettare il ricatto del Partito Democratico. Ecco, noi abbiamo perso quello spirito dello stare insieme. Poi certo, il numero degli iscritti, le poche risorse economiche, il numero dei militanti che comunque va sempre decrescendo ci deve far riflettere su qualche cosa che dobbiamo per forza fare. Io spero che lo inizieremo a fare nel prossimo congresso. Ok, Massimiliano, ti ringrazio. Ti volevo soltanto chiedere di fare un appello a questo punto pre-congressuale. Un appello a venire a Chianciano, assolutamente. È importante che tutti i militanti, simpatizzanti, iscritti vengano a Chianciano perché abbiamo bisogno di qualsiasi persona, di tutti, per cercare un po' di rimettere in moto sia il motore del Movimento Radicale Italiano ma anche di tutta l'area. Grazie Massimiliano Iroponino.